Troppe le persone in giro senza giustificate ragioni, malgrado le disposizioni ministeriali a seguito dell'emergenza Covid-19. Lo rileva la Polizia di Stato, che ha intensificato i controlli sulle strade per verificare il rispetto dei decreti legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi gli agenti in servizio nel territorio sassarese hanno dovuto infliggere una sanzione di 533 euro a un signore che era alla guida a molti chilometri di distanza dalla propria abitazione e non ha fornito valide motivazioni. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica e positivo all'alcol test di 4 volte il limite legale, conduceva un veicolo privo di assicurazione. Ha quindi visto anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Un altro caso riguarda un anziano di 79 anni che vagava in stato confusionale in corsia di sorpasso sulla X131 in prossimità dell'Agenzia delle Entrate, incapace di fornire le proprie generalità e il proprio domicilio e non conscio dei pericoli corsi nel suo girovagare. «Escludendo chi veramente si muove per lavoro o stato di reale necessità, non mancano i furbetti che adottano motivazioni non proprio veritiere», si legge nel comunicato a stampa della Questura di Sassari. «Cessato il fenomeno dell'animale di peluche da portare a spasso, adesso si diventa animalisti diretti in campagne inesistenti, si diventa supereroi andando a trovare la fidanzata perché inconsolabile data la lontananza, ci si scopre maniaci del pulito diretti negli autolavaggi per dedicarsi alla cura della propria vettura oppure senza necessariamente dare spiegazioni e privi di autocertificazione ci si sposta e basta».